Per continuare a fare festa insieme a tutti quelli che stasera sono qui abbiamo il sindaco Francesco Solnati con tanto di fascia tricolore che dirà due parole e consegnerà anche qualche cosa a Luca e anche l'assessore allo sport Roberto Bellino. Prego Francesco Luca Vanni a lei Luca Vanni a lei Fatemi dire due parole. Quando c'è stata sia la semifinale che la finale di Luca Vanni io ho visto un paese che non c'era perché tutti erano davanti alla tv a vedere il match del grande Luca e quindi una persona che ha un legame fortissimo con il proprio paese e visto che siamo al carnevale vorrei anche dire che Luca nelle interviste successive ha nominato spesso il carnevale di voi anni. E quindi come è stato detto anche prima da una persona che dice io mi sento bene quando aiuto il prossimo vuol dire che è un campione, è una persona speciale. Grazie Luca. Consegna una targa, la targa dei comuni di Foiano a Luca Vanni, l'assessore che ha scoperto il sindaco. E con grande emozione e gioia che consegno questa Luca con una dedica molto semplice. Un grazie di cuore per le emozioni che ci fate vivere. Grazie Luca.